Dopo oltre 20 anni dell'assassinio avvenuto nell'ottobre del 1998 del sindacalista Mico Geraci ucciso a colpi d'arma da fuoco davanti alla sua abitazione di Caccamo e sotto gli occhi della moglie del figlio Giovanni, la direzione distrettuale di Palermo è riuscita a ricostruire minuziosamente quell'efferato delitto definito per molto tempo senza verità e giustizia. Le numerose indagini svolte da parte della Procura di Termini Merese e in seguito alle dichiarazioni del collaboratore di giustizia Nino Giuffre da parte della Procura di Palermo non consentirono di delineare le dinamiche e il contesto dell'omicidio. In tempi più recenti così la Commissione parlamentare antimafia della dodicesima legislatura si è occupata del caso dedicandovi un'apposita inchiesta che ha portato a nuovi spunti di approfondimento. Le attività investigative hanno portato ad acquisire inediti elementi di prova che hanno permesso sia l'individuazione con elevata probabilità dei mandanti dell'omicidio e dei suoi esecutori materiali, sia di collocare l'assassinio nell'ambito delle strategie fondamentali dell'Associazione Cosa Nostra e dunque dei suoi massimi esponenti. Si è accertato che Mirko Geraci fu ammazzato per il suo impegno civile e politico, cioè che si era schierato apertamente contro la famiglia mafiosa di Caccamo, rivelandosi particolarmente scomodo per i consolidati assetti mafiosi di quel territorio, sì da suscitare l'intervento e la reazione dello stesso Bernardo Provenzano che personalmente ne ordina la soppressione. Stamane la Procura di Palermo ha delegato al reparto operativo un nucleo investigativo dei carabinieri del Comando Provinciale l'esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere per l'omicidio aggravato di Domenico Geraci. Il provvedimento riguarda due esponenti della famiglia di Trabia, già detenuti peraltro, iniziati di avere su impulso del capo mafia corleonese commissionato e pianificato l'assassinio. L'omicidio venne materialmente realizzato da due giovani, poi entrambi morti ammazzati, uno dei quali peraltro uccisero ad opera degli stessi odierni destinatari della suddetta ordinanza cautelare. È doveroso precisare che il procedimento penale è ancora nella fase delle indagini preliminari e che pertanto non è intervenuta alcuna sentenza che accerti la penale responsabilità dei due indagati. Durissimo colpo al fenomeno del traffico di droga da parte dei carabinieri del nucleo investigativo di Catania, che hanno arrestato un pregiudicato con un chilogrammo di crack e 200 grammi di cocaina, del valore al dettaglio tra gli 80 e 90 mila euro. Nell'ambito del potenziamento dei servizi di controllo del territorio, finalizzati alla prevenzione e repressione dei reati commessi alle stupefacenti, principale fonte di approvvigionamento della criminalità organizzata. I carabinieri del nucleo investigativo di Catania hanno portato a termine con successo un mirato servizio volta al contrasto dello smercio di droga nel popoloso quartiere Cappuccini, al termine del quale hanno tratto in arresto per detenzione ai fini di spaccio un 22enne pregiudicato catanese. I carabinieri hanno scoperto come il giovane, già conosciuto alle forze dell'ordine, avesse allestito un florido commercio di stupefacenti a domicilio, in cui si preoccupava di consegnare lui stesso agli acquirenti, a bordo di uno scooter, la droga pesante, per poi dileguarsi a gran velocità nei vicoletti del quartiere, con l'auspicio di passare inosservato. Avviate una serie di servizi di osservazione a distanza in modalità discreta dai militari dell'arma, hanno atteso il suo passaggio lungo le strade che il corriere era solito percorrere velocemente, e nel momento più propizio lo hanno bloccato scongiurando una possibile fuga. Scattato il blitz, i carabinieri hanno trovato dentro un zacchetto di proprietà del pregiudicato degli involucri e bustine in cellophane trasparente e termosaldate contenenti ben un chilogrammo di crack, nonché 200 grammi di crocaina in pietre. Tutta la droga è stata sequestrata e il 22enne arrestato. È posto a disposizione dell'autorità giudiziaria, che ha convalidato il provvedimento disponendo i domiciliari. Nuovi controlli del corpo forestale della regione siciliana sul grano estero in arrivo nei mercati dell'isola. Il nucleo operativo regionale agroalimentare Sicilia ha intervenuto al porto di Pozzallo, nel Ragusano, su un carico da 3.000 tonnellate di una nave proveniente da Port-la-Novelle, in Francia. I campioni di grano sono stati consegnati all'Istituto Zooprofilattico della Sicilia per le verifiche sulla sicurezza alimentare. Ringrazio il personale del NORAS del corpo forestale, dichiarato l'assessore regionale dell'agricoltura Luca Sanmartino, per l'impegno continuo che mette nei controlli sulla qualità dei prodotti che arrivano dall'estero. Il governo Schifani mette al primo posto la salute dei consumatori ed è in prima linea per tutelare agricoltori e produttori dell'isola. Intanto il NORAS a seguire ha eseguito anche controlli, anche nel MAS, mercato agroalimentare Sicilia a Catania, effettuando un sequestro di quasi 900 kg di prodotti ortofrutticoli ed elevando sanzioni per 4.800 euro. Il nostro obiettivo, ha dichiarato invece l'assessore regionale al territorio e all'ambiente Elena Pagana, è garantire a tutti i siciliani tracciabilità dei prodotti e standard elevatissimi di controlli e di qualità. Un'attività che svolgiamo senza soluzione di continuità e che vede la regione impegnata per garantire la sicurezza degli alimenti e accrescere la fiducia dei cittadini. In occasione della giornata internazionale della donna, l'azienda sanitaria provinciale di Siracusa ha promosso attraverso il Dipartimento Materno e Infantile, l'Unità Operativa Educazione e la Salute e l'Unità Operativa Informazione e Comunicazione, con il coordinamento della direzione sanitaria aziendale, un open day dei consultori dei quattro distretti sanitari della provincia di Siracusa. Giovedì 7 marzo, dalle ore 8 alle ore 17, si potrà accedere liberamente senza prenotazione ai consultori per ricevere informazioni sui temi riguardanti la salute delle donne, dalla prevenzione alla conoscenza di sé. Personali sanitario, psicologi e volontari forniranno informazione e materiale divulgativo sui maggiori temi che riguardano la campagna di screening per la prevenzione dei tumori all'utero, fertilità e monopausa, contraccezione, gravidanza, percorso di nascita, adolescenti e sessualità, accompagnamento alla genitorialità, nonché sul supporto e il contrasto alla violenza di genere. Nei consultori della provincia di Siracusa è in atto, inoltre in collaborazione con l'Ufficio Scolastico Provinciale, un programma di open day dal titolo Ascolta il tuo corpo e seguimi, con il coinvolgimento degli istituti di istruzione superiore, proprio per sensibilizzare e prendere consapevolezza dell'utilità dei consultori a cui i ragazzi possono rivolgersi accedendo attraverso corsie preferenziali gratuite. Regioni Siciliana ed RSE, Società di Ricerca sul Sistema Energetico, hanno siglato un protocollo di intesa triennale per agevolare la definizione di politiche tese a raggiungimento degli obiettivi stabiliti a livello europeo, nazionale e regionale in materia di transizione energetica e sviluppo sostenibile e a supportare la redazione della strategia regionale sulla gestione efficiente, economica ed efficace dell'energia prodotta da fonti rinnovabili, a firmare l'accordo Calogero Giuseppe Burgio, dirigente generale del Dipartimento regionale dell'Energia, e Franco Cotana, amministratore delegato di RSE, alla presenza dell'assessore regionale dell'energia e servizi di pubblico utilità Roberto Di Mauro. Grazie a questa collaborazione, ha dichiarato proprio l'assessore Di Mauro, la regione siciliana e RSE potranno lavorare alla pianificazione di un modello energetico che comporti un basso costo per i cittadini e le imprese siciliane e promuovere la gestione efficiente dell'energia prodotta dalle fonti rinnovabili. Particola l'attenzione nell'ambito dell'accordo e rivolta alla digitalizzazione dei sistemi elettrici attraverso la creazione di smart grid neurali e all'individuazione di configurazioni sostenibili di futuri impianti di pompaggio idroelettico compatibile con il fabbisogno di accumulo, secondo le strategie energetiche del piano di sviluppo di Terna. Grazie alla posizione centrale nel Mediterraneo, la Sicilia rappresenta un nodo strategico per le reti energetiche nazionali e europee, affermato infine Cotana, lieto di poter offrire supporto nell'analisi e nella progettazione dei piani per lo sviluppo di un sistema energetico regionale.